Cala il numero dei contagi anche in provincia di Caltanissetta e la curva si abbassa, 325 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, 87 a Gela, 83 a Caltanissetta, 45 a San Cataldo e gli altri suddivisi nei vari paesi della provincia. Però si contano ancora dei decessi, 3 pazienti positivi deceduti, uno di Gela, uno di Niscemi e uno di Caltanissetta. Si abbassa anche il numero dei ricoverati, quindi non c'è più la grossa affluenza e gli ospedali non sono più così affollati. E infatti sono 62 i pazienti positivi ricoverati nel reparto di malattie infettive, mentre sono 3 e rimangono stabili già da molte settimane i ricoverati in malattie infettive. Scende sotto i 5.000 la quota dei positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia, infatti sono 4.187. Nel dettaglio i dati di Caltanissetta, sono 950 i positivi in quarantena domiciliare, sono 16 i positivi in malattie infettive. A Gela, uno dei paesi con un maggior numero di positivi in tutta la provincia sin dalla terza ondata, sono 105 i positivi in quarantena domiciliare, sono 12 invece i positivi ricoverati in malattie infettive. Non c'è nessun paziente gelese ricoverato in terapia intensiva. Non c'è nessun paziente gelese ricoverato in malattie infettive.